appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale oggi parliamo di amici e delle anticipazioni sulla sesta puntata del serale si è appena conclusa la registrazione della sesta puntata del serale di amici e cominciano a trapelare le prime anticipazioni la prima manche è stata tra risa cuccarini e zerbi celentano alessandra e rudy hanno poi sfidato anna pettinelli e veronica peparini mentre la terza manche ha di nuovo visto la squadra di rudy alessandra contro quella di arisa e lorella a quanto sembra i ragazzi a rischio eliminazione sono tre daddy raffaele e samuele quest'ultimo è stato salvato e dal ballottaggio finale sarebbero quindi finiti daddy e raffaele come di consueto maria ha mandato tutti in casetta alla fine della puntata ed ha annunciato il nome dell'eliminato soltanto in collegamento con i ragazzi l'eliminato della sesta puntata sembrerebbe essere raffaele come al solito lo scopriremo sabato sera con la messa in onda della puntata gli ospri stasera sono stati nino frassica e analisa e voi che ne pensate siete d'accordo con i verdetti della sesta puntata per voi è giusto che daddy sia finito per la seconda volta consecutiva al ballottaggio fatemi sapere cosa ne pensate e se vi va iscrivetevi al mio canale al prossimo video ciao